Uno, due, tre Sei ore non stop di diretta radio, musica hip hop e live pine sul ponte di Laura Monachile Senti e vedi come suona 2.0, nato dal programma radiofonico di Radio Incontro E' divenuto centro di riferimento per decine di gruppi rap selezionati sul web Provenienti da tutta Italia, dandosi appuntamento in estate Sul palco, allestito nello splendido scenario di Lama Monachile a Polignano E' in diretta sull'incontro dallo studio mobile Il tutto frutto della volontà e passione musicale del gruppo locale Rap Pushaz Abbiamo consolidato questa realtà e si spera di portarla ancora avanti L'obiettivo adesso è l'edizione numero 10 e vedere che cosa succede col passare degli anni Com'è il pubblico dell'hip hop, del rap insomma qui in Puglia? Ma in Puglia stiamo crescendo, il sud è anche abbastanza avanti Quindi noi siamo contenti di aver segnato Polignano sulla cartina Quindi ci siamo e spingiamo, siamo belli carichi Una piccola curiosità, ma perché i rap portano l'asciugamano al collo con i pugili? Perché sul palco si suda, si combatte e quindi saremmo veramente persi Quattro di chi valuta è la prima performance? Beh! Beh!